Chi gioca ai cavalli è... come dire... è un misto, ecco, è un cocktail, è un frullato di roba. È un minorato, è un incosciente, è un regazzino, è un dritto, è un fregnone, è un milionario pure se non c'è una lira, è uno che non c'è una lira pure se è un milionario, è un fanatico, è un credulone, è un buciardo, è un pollo, è uno che passa sopra tutto e sotto a tutto, è uno che impiccia, traffica, imbroglia, more, azzarda, spera, rimore, è tutto per poter dire, ho vinto, adesso l'ho fregato a tutti e mo' beccata questa, chi è? Ecco chi è? Ecco chi è, il giocatore delle corsa dei cavalli, ed è per questo che io chiedo alla clemenza della corte, a nome nostro e a nome dei giocatori di tutto il mondo, il beneficio delle attenuanti per totale infermità mentale. Silenzio, silenzio, silenzio.